Faccia a faccia tra Tavassi e Donnamaria durante la post-GF VIP, i due Edoardo ancora lontani. Solo poche ore prima che si consumasse la festa post-GF VIP organizzata da Alfonso Signorini. Edoardo Tavassi aveva fatto sapere di non avere ancora rivisto Edoardo Donnamaria. L'amico più caro conosciuto durante la sua esperienza nella casa. I due, ormai è noto. Si sono allontanati a causa di una serie di divergenze cominciare a partire dal momento in cui Donnamaria è stato squalificato. A pensare sul loro allontanamento sarebbe stata principalmente la decisione di Donnamaria di togliere il segui amico l'incurvaia su Instagram per motivi che l'ex Jeffimo non ha mai chiarito. C'era grande attesa tra i fan del GF VIP a proposito della festa celebrata a Roma nella serata di giovedì 13 aprile. Tavassi e Donnamaria non sono stati fotografati vicini per gran parte della serata. Il videomache romano è rimasto in compagnia della fidanzata Nicole e del resto degli spartani mentre l'avvocato ha preferito trascorrere il tempo con la fidanzata Antonella Fiordelisi. La vincitrice Nikita Pelizzone e il gruppo dei persiani. Solo sul finire della serata, i due si sono ritrovati. Una foto circolata in rete ha documentato il momento in cui i due e Edoardo si sono allontanati dai rispettivi gruppi per provare a chiarirsi. Nello scatto, ripreso da una considerevole distanza, i due sembrano parlare ma le pose suggeriscono che esista ancora una certa distanza. Questa occasione potrebbe essere servita ai due amici per tentare di recuperare il loro rapporto ma è probabile che almeno per il momento, non li abbia portati a trovare un punto di incontro. Nessun cenno d'intesa. Invece, tra Fiordelisi, fidanzata di Donna Maria, e Micola, compagna di Tavassi. Chi si sono ignorate per l'intera durata della festa dopo l'ultimo scontro di fuoco avvenuto all'esterno della casa del GF VIP. Circostanza che nessuna delle dirette interessate ha smentito. Grabește-te că trenul ăsta nu așteaptă, dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus, poți să sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut haba. Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus, pot trebuie să sar. Acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascuns, pot să mă distor.